ha sentito la polemica del fatto che tutti i cinesi hanno votato alle primarie Beppe Sala ha sentito questa cosa? si ho sentito ma... è vero o non è vero? è vero o non è vero? si è vero si vuole votare Sala è vero? si è vero si e come mai? perchè? perchè va a sindaco di Milano è bravo? vi piace Sala? eh perchè Sala è bravo per l'espo e gli altri candidati non vi piacciono? gli altri? gli altri è un lavoro comune perchè... perchè cinesi perchè quando è sporco non si trova la Sala sono Sala, Sala è quello che è capo io lo so capo Sala? eh capo Sala, si perchè ci sono tanti sostenitori cinesi per Sala secondo lei? non è tanto non è tanto però alcuni c'è già anche c'è per la destra e per la sinistra non è solo per la sinistra io l'ho votato però l'hai votato? si come mai? perchè? perchè tutti li fanno votare e anche noi l'elestito anche facciamo la nostra banca però avete votato tutti lui? si si si, io si perchè ti piace? non è che mi piace per me è uguale tanto è uguale tanto un altro pepe è uguale tanto ma qualcuno nella comunità vi ha detto di votarlo? no no non ho chiesto a me no 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 se abbiamo scelto ma dire che bello tu hai votato per Sala? eh non ho avuto tempo di votare ah non hai avuto tempo ma avresti votato per Sala? eh non saprei non saprei ma perché vi piace tanto secondo te il pepe? non lo so io non ho votato quindi poi chiedi altri io non lo so e secondo te perché hanno votato tutti per Sala? non è tutte persone forse è solo uno per cento secondo me non è tutto andato perchè i miei amici tutto non è andato grazie